Un mix di moda, cultura arbreche e solidarietà ha segnato il successo della quarta edizione del Premio Arberia, organizzato da Lions Club. La serata ha celebrato eccellenze locali con riconoscimenti a Pasquadina Gigliotti, imprenditrice nel settore della moda, premiata per il suo eccezionale contributo imprenditoriale, e Gerardo Sacco, orafo di fama internazionale, che ha ricevuto il prestigioso Melvin John Fellow per la sua straordinaria carriera. A 18 anni sono andata nel nord proprio per realizzare questo mio sogno di lavorare per l'alta moda. Quello che mi piaceva fare era questo e ci sono riuscita. Quando hai questi attestati di affetto, di amore, allora io sono un tipo che voglio meritarlo poi sul campo. L'evento ha visto anche una sfidata di costumi tradizionali arbreche abbinati ai gioielli di sacco, in perfetto connubio tra tradizioni ed innovazione. Presenti molte autorità e figure di spicco del Lions Club, il presidente Giuseppe Amoroso ha sottolineato l'impegno dell'associazione nel valorizzare la cultura e le tradizioni locali. Oltre allo scopo di servire il territorio abbiamo come obiettivo quello di valorizzare le nostre eccellenze, tutte le nostre eccellenze che riguardano il mondo arbreche. La serata ha rafforzato il legame tra arte, solidarietà e cultura, confermando il Lions Club Arberia come punto di riferimento per la promozione del territorio e del benessere comunitario. Un premio importante perché ricorda a noi tutti quanto questa unicità e questa tipicità sia importante in un contesto come quello dell'area della Siberia e del Pollino in particolare, ma in tutta la Calabria. Di un riconoscimento ad una classe imprenditoriale, uomini e donne della comunità arbreche, che andranno sicuramente ad arricchire quel mosaico culturale della nostra regione Calabria.